Presentata ieri sera nella sede di Via Sicilia l'associazione socio-culturale Renovazio, a presiederla Domenico Parisi, che nel corso della conferenza ha elencato gli obiettivi futuri dell'associazione. Tre i punti chiave, promozione territoriale, sport e aggregazione giovanile. Renovazio parte dall'intenzione e da un'unione di intenti di molti giovani di Ponte Cagnano, un gruppo di amici prima che di persone addette ai lavori, se così possiamo dire, e Renovazio non è nient'altro che un punto di aggregazione, un punto di ritrovo, un punto di idee, progettualità. Stasera siamo qui alla nostra nuova sede, che sarà il punto dove è il fulcro di tutto quello che saranno le nostre iniziative. Partendo dal discorso dello sport, perché comunque è un nostro cavallo di battaglia, ma spaziamo e arricchiamo il nostro prodotto, se così lo possiamo chiamare. Anche ampliando per un discorso di eventi, organizzazione di progetti per la città, ma soprattutto, lo ribadisco, è quello che poi ci interessa di più, è fare aggregazione, per una fascia d'età che va dai 16-18 anni fino ai 30 anni. Anche qualcosa in più. Quindi concludo dicendo che Renovazio è tutto quello che può essere un discorso di gioia, di divertimento, di aggregazione. Ribadisco sempre lo stesso termine, perché sostanzialmente poi è quello che riassume meglio il nostro spirito. Noi crediamo che le associazioni debbano essere per i giovani un punto di riferimento, un punto di incontro e a Ponte Cagnano-Faiano un punto di partenza, magari dato che l'associazionismo in questa città non è mai stato, diciamoci la verità, un pilastro dell'aggregazione giovanile. Noi speriamo che possa diventare un punto cardine appunto per i giovani e per cercare di rendere i giovani protagonisti e partecipi nell'attività della città di Ponte Cagnano-Faiano. Quali sono le priorità secondo te? Ma come ha detto il Presidente Domenico, io mi sento di ribadire l'aggregazione, l'aggregazione sia territoriale che aggregazione giovanile, che sono un po' due facce della stessa medaglia, perché l'aggregazione territoriale è un po' cercare di rendere partecipi tutte le zone della città di Ponte Cagnano, mi sento di parlare delle zone del litorale, che possono essere Picciola, Magazzeno, la stessa zona di Faiano, Sant'Antonio, quindi aggregarle e noi vogliamo che questa, la nostra associazione, la nostra sede sia un punto di ritrovo per tutti, per parlare magari anche di nuove proposte, nuove idee per la nostra città, per il bene comune di Ponte Cagnano.